E' lui o non è lui? Lui! Certo che è lui! E' certo che è lui, è proprio Ezio Greggio che deve pagare una sanatoria di 20 milioni di euro, una tra le più alte in assoluto, per mettersi in regola con il fisco. Infatti c'è stato, secondo la procura di Milano e di Monza, un indebito, risparmio fiscale dovuto alla sua residenza a Monte Carlo, secondo, adesso lo spiego brevemente perché è noiosa la questione, secondo infatti quanto stabilito, il conduttore non aveva versato i tributi su quanto incassato da una società irlandese, che non si sa a chi faccia capo, che era titolare dei suoi diritti d'immagine. Quindi, in seguito a questo, lui ha preferito, anziché eventualmente pagare il doppio della cifra pattuita in questa sanatoria, ecco, ha optato per il pagamento immediato di 20 milioni di euro. Adesso, lasciando perdere la questione di per sé, è questo video creato per un unico motivo, quello della coerenza, che in Italia manca completamente. E Zio Greggio, infatti, nel corso degli anni è stato insegnato di vari premi per la satira politica, per il lavoro svolto, in particolare costrisce la notizia, per mettere in luce varie truffe, evasori fiscali e altre vicende di questo tipo. Ma adesso, con che faccia può ancora accusare altri, quando gli è stato riconosciuto, appunto, attraverso questa sanatoria, il fatto che fosse un evasore fiscale o comunque una persona che non ha pagato in base ai compensi, i lauti compensi ricevuti. Ma ditemi, con che faccia Zio Greggio può presentare strisce alla notizia? È vero che in tanti si dimenticano facilmente delle cose, eh. In Italia si fa presto a dimenticare e a perdonare. Ripeto, come presentatore alla fine di strisce alla notizia non è neppure male. Però la questione è quella della coerenza. Avesse un bricciolo di coerenza, si rifiuterebbe di presentare strisce alla notizia, che appunto dovrebbe indicare comportamenti simili al suo, altrimenti altro che attappirarsi da solo. Ha fatto una figura di merda enorme, una enorme figura di merda, proprio in virtù del lavoro che disimpegnava. Ripeto, eh, la coerenza in Italia non va di moda, basti vedere i nostri politici che, anche dopo una condanna, bellamente continuano a volere esercitare la loro carriera politica. Quindi, non fa scalpore che un presentatore prosegua nel suo lavoro, se un politico non si dimette. Ammetto che girino i coglioni a pagare tasse e versare soldi allo Stato italiano per nutrire il carrozzone della politica, dei corrotti, delle mafie e di tutte queste belle cosette che contraddistinguono il nostro paese. Ma almeno, se non vuoi pagare le tasse, non condurre una trasmissione dove tacci le altre persone di comportarsi in maniera scorretta e le deridi per quello o le insulti, in maniera più o meno sarcastica. Visto che sei uguale a loro, sei uguale a loro, è inutile che li deridi. Perché sei uguale a loro? Ripeto, io non sto a dire nulla sulla sua capacità come conduttore, attore o quant'altro. Semplicemente cito il discorso della coerenza. Non puoi fare la morale quando sei il primo che si comporta in maniera scorretta. No, non puoi farlo. Semplicemente non puoi farlo. È come se io criticassi gli idioti e poi mi comportassi a mia volta da idiota. Per carità, per molti magari sarà anche così. Ma quelle persone si possono prendere un estintore su per il culo. Comunque non c'è altro da dire. Ho voluto mostrare anche questo fatto che appunto deve essere avvenuto nella giornata di oggi al massimo di ieri così che voi tutti siate informati su uno dei vostri beniamini e non mi resta che salutarvi. Un saluto, branco di idioti. Ah, per la cronaca. Non offendetevi, il mio saluto classico. In realtà, vi voglio bene, branco di idioti. Vabbè, questa è una falsità. Ciao!